Allora, oggi tu penso che sappia di essere entrata nella storia, giusto? A quanto pare sì, me lo stanno dicendo un po' tutti. Questo è un appuntamento per noi unico, da una vita che il karate rincorre cinque cerchi, ho esordito oggi io e è andata bene. No, allora, noi abbiamo tutti gli atleti che oggi sono i giochi olimpici e il karate, sono tutti atleti da podio. Abbiamo fatto tutti un bellissimo percorso e potenzialmente possiamo fare medaglia sempre. Quindi bocca al lupo, ragazzi. Beh, sicuramente, chi fa kata, chi fa karate in generale, il Giappone è una fonte di ispirazione. Lì che è cresciuto il karate è una grandissima tradizione, quindi fare giochi olimpici proprio a Tokyo è sempre proprio un sogno. Quindi sì, ovvio, ha un sapore decisamente particolare.